good morning si sono diciamo le 9 e mezza qui quindi non proprio mattina prestissimo e nemmeno mattina tardi 9 e mezzo mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's february 21 2022 and it's a monday here in naples a rainy morning with a soft wind and 57 fine at 14 celsius this means that non è quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo ma come sempre e fino lo dirò fino alla primavera invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo perché è impossibile ma quanto meno di combattere il freddo sì per quanto riguarda il video sui pensieri non so se lo faccio separato da questo perché sto pensando al mio napoli calcio solo oggi credo che tra qualche ora alle 7 ore italiane qui avrà un match in casa del cagliari sarà spero che ci aiutate diciamo che grazie al quale se vince può ritornare in testa alla classifica sì e speriamo che questo sia proprio l'anno buono per il mio napoli calcio perché francamente se lo merita vincere questo campionato non lo vince da 32 anni sarebbe il terzo campionato che vince nella storia speriamo quindi magari aggiungo altre cose in descrizione anche se non credo però confido nel suo numero del today's number anche vediamo un po che cosa esce sì non credo di star pensando ad altro se mi viene qualcosa altrimenti aggiungo descrizione anyway as you just see and you'll see from the window it's i think that this afternoon it'll be going up to i stessi gradi da adesso o forse qualcuno in meno but surely we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies in golden sunshine il tempo è quello che è quindi è inutile nemmeno che dico la frase cult che è impossibile che le cose cambino francamente quindi a questo punto speriamo per un giorno migliore rettamente domani say the days stavo pensando di cambiare il saluto finale perché in effetti poi cioè non è che io vivrò per sempre qui quindi queste tende non è che mi accompagneranno per sempre quindi meglio fare un saluto più semplice sperimentiamo vediamo un po come va per cui dico semplicemente da oggi provo a fare così anche per una brevità maggiore report solo dico solo from my mythical keyboard amari gx 640 ipg 625 have a great day good morning si sono diciamo le nove e mezza qui quindi non proprio mattina prestissimo e nemmeno mattina tardi non lo so mister o semplice know SAMPLICEMENTE David Lynch It's February 21 2022 And it's Monday here in Naples A Rainy morning With Soft wind And 57 14 celsius This means that Non è quella giornata Veramente, veramente, veramente Fredda come in questi giorni In questo periodo, ma Come sempre, lo dirò fino alla primavera Invito a vedere il mio video sul freddo Che ho fatto a dicembre Per capire quali sono le due pratiche Che utilizzo per cercare Non di vincerlo Perché è impossibile Ma quantomeno di combattere il freddo Sì, per quanto riguarda il video sui pensieri Non so se lo faccio separato da questo Perché sto pensando al mio napoli calcio Solo oggi, credo Che tra qualche ora Alle 7 ore italiane e qui Avrà un match In casa del Cagliari Sara, spero che Ci aiutate Diciamo Che grazie al quale Se vince Può ritornare in testa Alla classifica Sì, e speriamo che questo Sia proprio l'anno buono Per il mio napoli calcio Perché francamente Se lo merita Vincere questo campionato Non lo vince da 32 anni Sarebbe il terzo campionato Che vince nella storia Speriamo Quindi vediamo un po' Magari aggiungo altre cose In descrizione Anche se non credo però Confido nel suo numero Del today's number Anche vediamo un po' Che cosa esce Sì, non credo di star pensando D'altro Se mi viene qualcosa Altrimenti aggiungo In descrizione Anyway As you just see And you will see From the window It's I think that This afternoon It'll be going up to I stessi gradi da adesso O forse qualcuno in meno But surely We aren't going to be enjoying Those beautiful blue skies In golden sunshine Il tempo è quello che è Quindi È inutile nemmeno che dico La frase calcio Perché è impossibile Che le cose cambino Francamente Quindi a questo A questo punto Speriamo per un giorno migliore Rettamente domani Per cui Save this So from the mythical window Certo Questa è un'altra finestra Con The mythical Flowers Pink flowers Un rosa leggero Ma But from the mythical window With the cloud of the curtain It's green ruler shooter Purtroppo oggi È quello che è il tempo Quindi è brutto Tutta la tenda And finally From the mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day In all the people Follow the channel The reports Sì un saluto Davvero a tutti Have a great day Sì un saluto